E bella a tutti ragazzi sono Gilbert e ragazzi sono qui oggi in un nuovo video in cui vi mostro la soluzione in cui vi mostro tutti i luoghi dove potete trovare il rift ovvero quelle spaccature temporali che vi portano in altri posti Comunque raga premetto che vi mostrerò una mappa però prima di mostrarvela ragazzuoli vi dico quali sono le due persone che mi hanno messo like le ultime due persone che sono jcoz official che mi ha messo like e kalimba che mi ha messo like Spero di averlo pronunciato bene perché non sono sicuro Comunque raga prima di partire vi ricordo anche di lasciare un bel like cerchiamo di arrivare a 100 Nulla raga direi che possiamo partire Oggi vi mostrerò semplicemente la mappa perché è quello che penso vogliate di più anche perché non posso mostrarvi tutti i luoghi andandoci dentro perché i portali si vedono da lontano non è che devo farvi vedere il posto esatto Infatti oggi vi mostrerò solamente la mappa ve la metto abbastanza grande così la potete vedere e non dovreste avere problemi Se avete problemi basta che mi scrivete qua sotto nei commenti vi mostro assolutamente meglio quella che è il luogo esatto del rift Comunque raga premetto che questa è la mappa ma nel caso in cui non doveste trovare dei portali esattamente dove vi ho pingato io Ricordo che il portale nel momento in cui viene usato da una persona resta lì per non so i secondi di preciso ma penso tipo una decina di secondi Quindi se non lo trovate nei posti che vi ho indicato è semplicemente perché probabilmente l'ho usato una persona prima di voi ed è scomparso dopo Il modo più facile per svolgere questa sfida qua è quella secondo il mio onesto parere è quella di prendere un rift e trasportarsi ad un altro Quindi farlo di conseguenza tipo che ne so da palmetto mi teletrasporto dietro fatal da dietro fatal mi teletrasporto vicino a Gabotown Da Gabotown mi teletrasporto dal Pasqualone che comunque usando il rift vi trasporterete velocissimamente quindi non dovreste avere problemi Se dovreste averli scrivete questo nei commenti che vi aiuto Nulla raga direi che questo video può finire qua E niente ci becchiamo e vedete al prossimo video Ciao